Buongiorno a tutti. Sicurezza, immigrazione e giustizia sono sicuramente tre temi caldi che hanno visto la Lega essere forza di governo e forza di lotta. Con esperienza, competenza e professionalità non abbiamo sicuramente nulla da invidiare e da imparare dalle altre forze politiche. E partendo proprio dalla Lega di lotta vogliamo oggi ribadire e sgombrare il campo ad ogni dubbio su una di quelle tematiche più dibattute oggi in tema di immigrazione sia come acquisire il diritto di cittadinanza italiana. Noi siamo qui per dire chiaramente no al principio dello ius soli, senza se e senza ma. Questo deve essere chiaro a tutti e deve essere chiaro a tutti che la Lega difende le leggi buone che ha fatto, difende i provvedimenti che ha fatto partendo da quell'unica grande legge che abbiamo che va a regolamentare oggi una materia così difficile come l'immigrazione che è la legge Bossi-Fini. Quindi no allo sannoternamento di quella legge, quindi mantenimento della legge Bossi-Fini, contrarietà all'abrogazione del reato di immigrazione clandestina e sospensione dei decreti flussi. Oggi noi abbiamo delle percentuali impressionanti di disoccupazione non solo tra gli italiani ma anche tra gli immigrati che sono avvenuti in Italia. Quindi è impensabile continuare anche a promettere con i decreti flussi il venire in Italia di persone per fare lavori che oggi, ripeto, non riescono più neanche a fare gli immigrati che abbiamo qua perché risultano essere in stato di disoccupazione. E bisogna andare a sfidare quei ministri come la Chienz che oggi parlano e si riempiono la bocca di tanta solidarietà, di tante cose su quelli che sono i numeri della immigrazione. Numeri che neanche lei penso che conosca. È per questo che proponiamo a livello macro regionale la creazione di un osservatorio sul tema dell'immigrazione che raccolga tutti i dati e le incidenze che la stessa ha da un punto di vista sanitario, da un punto di vista sociale, che tenga conto anche di tutte quelle che sono le spese che gli enti locali e i comuni in primis sostengono. Penso per esempio alle case popolari. Vi do un dato per rendervi chiaro quella che è l'incidenza dell'immigrazione su una regione come l'Emilia Romagna. Ogni anno in Emilia Romagna noi spendiamo 20 milioni di euro per esenzioni ticket agli estracomunitari e poi contestualmente andiamo a chiudere gli ospedali magari di montagna privando il territorio di servizi essenziali. Questo è quello che sta accadendo sul nostro territorio ed è quello che stiamo in qualche modo subendo. Occorrono azioni di rispengimento. Io mi chiedo, a differenza di quello che ha fatto il Ministro Maroni quando era Ministro degli Interni, cosa sta facendo oggi Alfano. Non si parla di nulla di quelle che sono politiche di prevenzione e di rispengimento. E qui una stoccata bisogna darla anche all'Europa, non solo da un punto di vista economico, ma anche per quelle strane e delibere che ci obbligano poi come Stato ad attuarle, a recepirle. Ne cito una che è quella che in un qualche modo di Dublino obbliga addirittura nel caso in cui si trovano extracomunitari che magari sono andati in Germania o in Olanda passando per l'Italia dove li abbiamo poi identificati attraverso i CI a riprenderseli perché siamo stati quel Paese che in un qualche modo ha provveduto alla loro identificazione. Con il risultato che oggi abbiamo tantissime persone, si parla di una media di 500 sbarchi al giorno, 500 sbarchi al giorno, di persone che non vengono neanche ormai più identificate, non vengono neanche più identificate, non vengono neanche più portate all'interno dei CIE e quindi scorrazzano liberamente per quelle che sono le nostre città e non sappiamo neanche oggi chi ci troviamo ad avere in casa. Con un PD e un PDL che contemporaneamente a Roma votano il decreto svuota Caceri. Noi chiediamo la revoca della cittadinanza agli stranieri che si sono macchiati di gravi crimini, il rimpatrio dei detenuti stranieri con il vieto di reingresso nel nostro Paese di concessione di alcun tipo di soggiorno, la reintroduzione della tassazione delle rimesse all'estero, il flusso di denaro che costantemente scappa dal nostro territorio creando un danno alla nostra economia locale attraverso le rimesse è un'altra di quelle cose che ha fatto Monti, l'ha tolta. Ha tolto una di queste tassazioni che oggi invece va rimessa per coprire quelle spese causate da un'immigrazione clandestina e per coprire i costi degli impatri coatti che devono essere fatti. E poi una norma che non è una norma anti-Kienge ma è una norma penso di correttezza istituzionale, ossia l'obbligo di opzione della sola cittadinanza italiana in chi assume alti incarichi istituzionali. Non possiamo avere ministri, non possiamo avere persone che ricoprono delicati compiti di rilievo istituzionale che hanno una doppia cittadinanza. Io qui parlo di un conflitto di interesse, spesso si parla di conflitto di interesse guardando al portafoglio ma ci sono dei conflitti di interesse che hanno anche una loro legittimazione in quello che è lo status giuridico di cittadinanza in cui ricopre certi incarichi. Su quello che è il reparto della sicurezza penso che qui possiamo partire dall'esperienza di governo del nostro movimento partendo dal grande lavoro che hanno fatto i sindaci, dal grande lavoro che stanno facendo anche i neo assessori alla sicurezza nelle regioni a guida lega e quindi partiamo da quello che sono le esigenze di contemperare e mettere in rete tutto un sistema di dati, di sinergie tra le forze di polizie locali e le forze di polizie nazionali. Non possiamo avere la polizia municipale che magari ferma il più grande delinquente della storia e più ricercato ma solo perché ha il libretto a posto, l'assicurazione in regola lo lascia andare via. Questo non è controllo del territorio, questo è favorire invece quel casino che stiamo subendo continuamente. Basta affacciarsi ad una finestra di qualsiasi casa e vedere cosa capita sotto nelle vie che purtroppo oggi sono anche piene di prostituzione e di malavita. E' proprio sulla prostituzione come Lega Nord che diamo l'abrogazione della legge Merlin. E' finalmente dotarci di una legge degna di un Paese moderno e serio che va a combattere la criminalità che vive alle spalle della prostituzione e per arrivare anche a tassare questi proventi che oggi sono ad esclusivo appannaggio della malavita organizzata e che come ricordava giustamente Matteo Salvini potrebbero generare un gettito che sarebbe capace di coprire quello che è il gettito dell'Imu. Abbiamo poi, e concludo, altre due proposte, una regolamentazione per quello che è anche la costruzione delle moschee. Non possiamo continuare a subire come enti locali una deregulation in materia e qui io prendo l'esempio di Parma dove il sindaco Grillino vuole costruire addirittura donando un terreno alla comunità islamica per fare una moschea più un minareto. Bene, sfidiamoli su questi terreni. Andiamo a chiedere che queste decisioni non siano frutto solamente di un sindaco impastito ma che siano approvate attraverso una consultazione popolare che sia la gente ad esprimersi con il proprio voto perché è la gente che governa a casa sua. Non sono i sindaci che una volta eletti vanno ad attuare programmi che non erano neanche inseriti in quello che era un programma elettorale. Ultimo, l'obbligo da parte delle strutture sanitarie di segnalare all'autorità giudiziaria la cura dello straniero irregolare e anche del medico nel caso in cui rilevi casi di mutilazione genitale. Ci hanno bocciato quello che avevamo fatto l'altra volta con numerose critiche perché l'obbligo era imposto in capo ai medici di segnalare nel momento della cura se stavano curando un clandestino o meno. Bene, noi giriamo l'ostacolo, il medico non deve denunciare nulla, deve segnalarlo alla struttura sanitaria, alla scompetente, sarà poi da un punto di vista amministrativo che verrà fatta la segnalazione, come il medico in questo caso il ginecologo che spesso si trova a distanza di sei mesi a visitare la stessa donna che magari sei mesi prima era perfetta e sei mesi dopo si trova ad aver subito la mutilazione genitale a dover dare il proprio report alla struttura sanitaria di riferimento. Questo non solo per un motivo di sicurezza e qui sfidiamo la sinistra su quella sensibilità verso il ruolo della donna, verso la difesa della donna, perché quando in casa in maniera clandestina avvengono simili fatti vuol dire che non c'è rispetto per quello che è il ruolo della donna, non c'è rispetto per la libertà di scelta ma c'è segregazione e imposizioni di scelte culturali che nel nostro paese devono essere considerati invece reato e i reati in uno stato di diritto vanno perseguiti e puniti e anche segnalati quando devono esserci casi come questo tipo. Lascio il reparto attinente alla giustizia al collega Nicola Molteni e ringrazio tutti i collaboratori del gruppo del tavolo della sicurezza per l'ottimo lavoro svolto. Grazie. Grazie Nicola Molteni.